Musica Lo fate l'albero di Natale? No, perché noi non festeggiamo l'antica festività pagana dei Saturnali. Saturnali? Venite, bambini, il momento dello speciale di Natale di Sheldon è finalmente arrivato! Nell'era pre-cristiana, quando il sostizio d'inverno si avvicinava e le piante morivano, i pagani portavano ramiti sempreverde nelle case come atto di magia beneaugurante, inteso a proteggere le essenze vitali delle piante fino a primavera. Questa usanza fu successivamente adottata dai nord europei e infine è diventata il cosiddetto albero di Natale. Chiedo ufficialmente che venga aggiunto questo. Che cos'è? Non lo riconosci? È un mini busto di Sir Isaac Newton. Oh, ma certo, un vero simbolo del Natale. Tanto per chiarire, Penny, è molto più un simbolo questo di qualsiasi cosa abbiate già disposto. Eccolo che parte! In base al calendario giuliano, Isaac Newton è nato il 25 dicembre 1642, mentre la vera nascita di Gesù è avvenuta in estate. Il suo compleanno è stato spostato così da coincidere con la festa pagana nella quale si celebrava il sostizio d'inverno accendendo fuochi e massacrando capre, che per inciso sembra più divertente di 12 ore in chiesa con mia madre e una torta di frutta. E buon Newtonale a tutti quanti! La 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 Grazie a tutti.